Lo scrittore francese Georges Duhamel diceva che ogni civiltà ha la spazzatura che si merita. Oggi, al di là di discorsi meritori, si profila una nuova emergenza rifiuti, con contorni sempre peggiori. 400 dipendenti delle imprese collegate al lato a G2 e GESA con ogni probabilità verranno licenziati. Il fallimento ingigantisce la sua ombra e il sostegno promesso nel termine dei 15 giorni non è arrivato. Le imprese falliranno e i dipendenti si ritroveranno disoccupati. Le nostre strade saranno nuovamente inondate dalla nostra stessa spazzatura. Le imprese hanno notificato il tutto all'ufficio del lavoro, sindacati, sindaci, prefettura e dipartimento regionale acqua e rifiuti. Mentre hanno confermato al commissario liquidatore, Teresa Restivo, che il contratto di appalto verrà risolto per gravi inadempimenti del committente, che in questo caso trattasi di GESA. Lo scorso 26 ottobre il raggruppamento di imprese impegnate nella raccolta rifiuti di ben 19 comuni avevano posto l'ultimatum di 15 giorni al lato a G2 e GESA, richiedendo gli 11 milioni e 700 mila euro spettanti e riguardanti il servizio svolto dal marzo all'agosto 2012 e fondamentali per la loro sopravvivenza. Nulla di fatto pone lo stato di grave emergenza. Già ai primi di dicembre potrebbe registrarsi l'interruzione del servizio. Emergenza che si estende anche sul versante orientale. La Dedalo Ambiente, società impegnata nella raccolta di sette comuni a est di Agrigento, deve 1 milione e 800 mila euro alla discarica di Siculiana, che aveva posto un ultimatum, poi una proroga, entrambe decadute. Rosario Miceli, commissario liquidatore del lato 3, ha confermato il lieve slittamento dei termini. In questo lasso sarà fondamentale trovare il denaro necessario. La logica conseguenza è il caso di mancato reperimento, sarebbe lo stop della raccolta a Licata, Canicattì, Palma di Montechiaro, Ravanusa, Campobello, Naro e Camastra, come già avvenuto due mesi fa. Proprio Licata ha questa maggiore preoccupazione allo stesso Miceli. Il comune ci deve, per quanto concerne i costi della discarica, oltre un milione di euro, ma da parte loro abbiamo ottenuto solo silenzio, afferma. Adesso lo sguardo volge dalle parti del nuovo governatore Crocetta e dell'assessore designato all'energia e servizi di pubblica utilità, Nicolo Marino. Il caso richiede una risoluzione celere e le intenzioni di Crocetta sembrano addurre a questa conclusione, anche perché una regione a 7 stelle non potrà permettersi il pattume sotto casa.